Dieci sfere, al cui interno sarà presente un abito, popoleranno la volta della Galleria San Federico a Torino dal 20 novembre al 31 gennaio. L'evento è stato presentato con una conferenza stampa al Circolo dei Lettori. La Galleria tornerà a brillare regalando al pubblico la creatività dei giovani fashion designer appartenenti alla tradizione della moda torinese. L'esposizione è stata curata dall'Associazione Golf Art, che donerà l'installazione alla Fondazione OGR di Torino.